Mister Mascarello per la tua Keraschese, un ottimo pareggio qui a Cune, una bella prestazione. Mister, dopo il 2-2 in rimonta con il Centallo, fermate un'altra big di questa campionata, quindi insomma una Keraschese che ha dimostrato di stare bene oggi. Beh sì, direi di sì, insomma se prima della partita magari tutti un punto l'avremmo firmato, usiamo questo termine, alla fine direi che un pochettino di rammarico c'è, soprattutto perché abbiamo creato delle situazioni importanti, al di là del valore dell'avversario, credo che la prestazione nostra oggi, penso di poter dire serenamente che è stata forse la migliore versione della Keraschese in questo inizio di stagione. e quindi posso solo fare i complimenti a tutti, tutti i ragazzi hanno corso fino alla fine, lottato, ci abbiamo messo anche della personalità in alcuni momenti, quindi i cambi poi sono serviti nel momento che servivano, e quindi sono molto soddisfatto. Un grande approccio alla gara e poi soprattutto un approccio che è stato mantenuto anche dopo aver preso il gol, quindi a livello di personalità sicuramente si sono viste cose importanti. Sì, in effetti devo dire che questa è stata, tra le tante cose che ha funzionato, la sorpresa migliore, ma già domenica sotto 2-0 non abbiamo, insomma, partito la situazione, però ci sono state partite come a Valenza, come anche ad Acqui, che dopo il gol preso ci siamo un pochettino, insomma, squagliati, invece oggi devo dire che l'atteggiamento è stato giusto dal primo al novantesimo minuto, anche perché poi quando vieni a confrontarti con squadre come alcune o appena sbagli qualcosa sull'1-0 la partita può prendere una piega diversa, invece, ripeto, non trovo punti a sfavore, oggi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene. Ministro, ne approfitto per chiederti una cosa, diciamo, extra partita, nel senso che domenica scorsa siete tornati a giocare sul campo in erba del Roella, sul campo storico della Cheraschese, ecco, per voi cosa può cambiare, che fattore può essere tornare a giocare, insomma, in un impianto che sicuramente è importante per voi, può essere fattore? Sì, innanzitutto credo che la cosa migliore sia per i tifosi, o per chi viene a vedere le partite, perché effettivamente la tribuna è coperta, quindi questo è già, vedi bene la partita, quindi questo è già un vantaggio per il contorno. Per noi vuol dire tornare a casa, cioè la società ci teneva fortemente, quella è un po' la casa del Cheraschese, che insieme a alcune è una delle società più vecchie della provincia, quindi tornare a casa nostra era così un punto forte che il presidente della società voleva utilizzare. Poi dobbiamo essere bravi noi, adesso a sfruttarlo nella maniera giusta, a conoscerlo, utilizzare le misure e farlo diventare un plus in più per il nostro campionato.